Ehi la ciurma, io sono Valzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures Allora, la scorsa volta la webcam ha funzionato ma ci sono stati dei glitch grafici un po' stranini però ho cercato di migliorare il settaggio su OBS, aspettate che metto in pausa ho cercato di migliorare il settaggio su OBS e cambiare alcune cose dentro Spore spero che questa volta vada meglio ma comunque tra le due per ora credo che mi piaccia di più quella con i glitch grafici strani ma in cui la webcam funziona poi non so, ditemi anche cosa preferite voi il discorso è che sto avendo un sacco di problemi con action ultimamente quindi anche ad esportare con la webcam è un macello che non vi dico registrare con la webcam invece con un programma separato o lagga troppo oppure mi registra a 14,97 frame al secondo da quanto sembra quindi uno schifo ancora peggiore Spore mi sta facendo perdere la pazienza per quanto riguarda la registrazione perché solo con questo sto avendo tutto sto enorme casino comunque allora scorso episodio avevamo fatto tutto e niente nel senso che avevamo comprato qualcosa, avevamo venduto qualcosa avevamo colonizzato qualcosa, avevamo guardato un po' delle medaglie, avevamo esplorato eccetera eccetera qua ora c'è molta gente che vuole comprare, che vuole vendermi i pianetozzi tra l'altro mannaggia qua l'impero minor come si è espanso porca la pupazza porca la pupazza ma perché non si espande nell'altra direzione e si espande solo in questa? boh, devo stare seduto dritto, composto, per benino ma andiamo a comprare questo, ha deciso, ok no, non compriamo niente però andiamo a visitare qualche pianeta a vedere se riusciamo a prendere della roba interesting ah ecco una cosa che non ho controllato effettivamente, aspettate un attimo che vado, opzioni, impostazioni eeeh no, niente allora qua non c'è un kaiser, sistema del perché se ci vado sopra invece si? eh buffo, mi spiace buffo, ma non posso farci un kaiser si c'è qualcosa, perché non mi lampeggiava? ho un reperto allora, 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 andiamo a vedere un po' che cosa cavolo era ho neanche letto che cos'era quel reperto, era mai scaramellato fossilizzato, ma che schifo cioè, detto sinceramente che schifo qua c'è qualcosa qua c'è qualcosa, andiamo a esplodare un sistema in più per la medaglia dei sistemi e andiamo a prendere un reperto in più dov'è? repertino eppure sbrillucicava prima ma avrei giurato che sbrillucicasse prima il pianeta oh niente, ho fatto tutto il giro del pianeta, ma non mi è sembrato di trovare assolutamente niente chi? che è successo? no, no, non lampeggia più, boh ah, sapete cos'è? forse è una di quelle cose che ti dicono ah, in realtà ti hanno truffato i pirati, però perché? abbiamo distrutto una nave uscendo, ma non ho capito cosa è successo quindi credo che si sia tipo bugato leggermente dovevano esserci dei pirati che ci facciano lo scherzetto e invece non è successo niente allora, questo qua ha dato tra l'altro un reperto sopra e ci piace perché stiamo continuando a trovarne ok che uno era un falso allarme, ma eccolo qua no, è lui? ah, la stiva è piena, ma porca di una miseria è vero che abbiamo la stiva piena? ah, teniamoci conto questo che qua su al centro c'è un un pinko panko scendiamo qua, vendiamo la roba ciao human, ah qua vendono spezie viola ciao human, allora, commercio ti vendo questo, vuoi anche della spezia di qualche tipo? 37k, no, 44 16k, no, 40 no, niente è stato un piacere, ma fate schifo no, non nel senso che fate schifo come razza ma nel senso che avete dei prezzi del manga non andiamo a comprare niente cioè non vi vendiamo niente, cioè allora ecco, dov'è che era adesso? ah, eccolo qua ok, adesso ricordiamoci che bisogna andare a svuotare la stiva vendere stan baladan cioè, a fare le collezioni non so come sarebbe possibile perché o li metti depositandoli nel sistema quello con lo zoo, no, come si chiama? il fatto che c'è la quello vicino a Tarantella paradiso degli animali quello che è paradiso terrestre la dovrebbero conservarsi quindi potresti stoccarli là però prima di fare una collezione ci vanno 60.000 anni però possiamo provarci effettivamente a depositarlo là e vedere un po' che cosa succede perché ticchimicamente là non dovrebbero sparire le cose 10 robili dell'ordine questi sono dei robili dell'ordine scusa un attimo ah, rotoli non so leggere non so leggere ma dove è Tarantella? ne ho Tarantella qua perché allora qua su Nefi avevamo fatto un pianeta ciccipuzzi in cui avevamo depositato anche della spezia qua è un santuario della natura selvaggia ecco come si chiama se noi depositiamo un rotolo qua dovremmo trovarlo quando torniamo teoricamente lampeggiare non lampeggia ecco però dovrebbe restare là proviamo un attimo a vedere se andiamo a recuperare altra roba in giro e torniamo poi là se quello è sempre allo stesso posto perché se invece depositiamo la spezia in altre parti boh non la trovi più anche se vai in tuoi sistemi nel senso che ah è una trappola ok visto prima non avevo letto sta fare ci sono dei tizi qua si vabbè lol ma non faccio neanche in tempo a accorgermi che ci sono i tizi che li distruggo ecco perché prima non ci avevo fatto caso vabbè 4000 crediti non sono niente ma e ho capito che i grox stanno attaccando il pianeta buffo mi spiace per il pianeta buffo ma è buffo e quindi che cavolo è allora uh ma stiamo continuando a trovare dei degli artefatti in giro che discorso è saranno altre imboscate no cosa ci sarà qua dov'è ah trasmissione arriva dalla tua colonia ufostili stanno saccheggiando melilla ok melilla andiamo a difenderlo perché qua nei paraggi passiamo da tarantella e poi andiamo a difendere avendo tarantella così ci ricarichiamo e ripariamo depositiamo gli affari là allora ciao e vediamo qua se un efis c'è ancora tutto ma si è bugato qua in mezzo mi sembra che sia qua l'affare adesso proviamo a depositare questo un po' più in qua un tour case abbiamo trovato ma perché vedo l'affare lampeggiare qua sì è il rotolo dell'ordine ma perché era messo là starci ci sta non so perché si è bugato in quella direzione vabbè male che vada perdiamo qualche migliaio di sporche credit niente di che andiamo a difendere piuttosto melilla anche perché il nostro sistema con la spezia viola non vorrei mai che ci facessero macelli sulla spezia viola dove è melilla là sotto arriviamo tanto questi due piratuncoli cosa vorrete che siano pezzetti dove siete va che ne vedo uno qua ma cosa è successo vabbè risolto tutto meglio così a 17.000 mi sembra che sia il massimo se ti vendiamo tutto guarda per 17.000 grazie è stato un piacere adesso andiamo a recuperare magari un po' di spezia gialla già che ci siamo già che ci siamo andiamo a recuperare la spezia gialla puoi controllare anche da quanto sto registrando spezia gialla era qua ok in più c'era quello anche in mezzo alla strada che è a 5 e 5 e 80 e siamo a 90 e dovrebbe esserci l'altro da 30 tipo qua così di donne ma qua indica anche un quello da raccogliere cos'è? ah no questo è un mio mezzo si c'è qualcosa è un strumento di modellazione planetario lol cos'è? eh caratteri meccanici buono buono saperse di modellazione planetaria abbiamo praticamente niente ma anche perché non abbiamo esplorato tantissimo è a dire la verità abbiamo guardato un po' i nostri dintorni ma niente di che adesso andiamo a esplorare qualche sistema uncolo in più vedere se troviamo qualche cosa da gettare allora qua tra l'altro è un sistema verde ma spezie verde vabbè non ne abbiamo tantissimo di spezie verde oddio però no non è una trappola ecco qua recupera sta a fare non starmi in mezzo ai piedi che non vado niente di nome cibo per animale domesticato fossilizzato lol torniamo la depositarla ma effettivamente il fatto di continuare ad andare avanti e indietro è un po' uno strazio potrei effettivamente depositare momentaneamente la la mia beh allora ciao ricarica e ripara potrei depositare momentaneamente la tutta la mia spezia e poi se per caso dovessimo andare a venderla di nuovo la andiamo a recuperare ok sto giro sono rimasti fermi qua allora depositiamo tutto qua così non dobbiamo andare a venire tutte le volte allora guarda ti deposito questo qua e poi ti deposito tutto tipo allora spezia viola no era spezia rosa quella forse stanno attaccando un sistema ma non ho capito quale ok così adesso abbiamo lo spazio proprio libero kilintani dov'è kilintani ah qua arriviamo non mi ricordo neanche di virtual questo sistema forse l'abbiamo comprato da qualcuno magari anche di recente non mi ricordo più questi sono andati ce n'è uno la sotto eccoli non sparo neanche tanto ci sono gli altri che ti devastano per conto mio no non so che qua ce n'è un altro ce n'è uno là e ne ho visto ancora ecco uno boh recopriamo un po' di dindi dai vogliono solo i soldi non la pianta e vabbè qui se ne frega ciao ciao andiamo a vedere se si trova da qualche parte qualche altra aspetta no devo vedere un attimo da quanto sto registrando 16 minuti ok ancora ancora fattibile cioè 16 circa magari per voi sarà un po' diverso aspetta che non capisco più niente però di come sono orientato la rantella è quello quindi sì ecco tipo così andiamo su questo che non ho mai visto e dove c'è tra l'altro un altro affare adesso abbiamo un po' più di spazio quindi dovremmo avere anche più possibilità di girare senza doverci fermare ogni volta ah è qua ah no non sono detto di modellazione planetaria cos'è? mesas meccaniche che non so cosa siano ma vabbè tanto la modellazione planetaria non mi è mai piaciuta a voi piace a me sembra totalmente uno spreco di tempo ed energie a muto così proprio la c'è qualcosa andiamo a vederlo allora non ho ancora caricato la texture del pianeta ok questo è un reperto antico grattastivali epico e poi allora andiamo di qua andiamo di qua a vedere un po' qual è la situa in questo pianetto non c'è niente vabbè abbiamo esplorato un sistema in più ma dobbiamo esplorare tipo 600 milioni per avere la prossima medaglia niente quanto male anche noi effettivamente per la prossima medaglia dei pianeti no qua quello va dai apri non bloccarti oddio ok l'esplora pianeti qual è questo 500 sistemi solari ma scusa un attimo questo si non ce la farò mai siamo a 284 su 500 ce ne vorranno ancora trilliardi mentre invece quello dei reperti ce ne mancano 22 22 manufatti quello dell'acquista ai pianeti credo che l'abbiamo già finito acquista 40 rotte commerciali ok possiamo farne ancora 9 effettivamente allora andiamo magari a comprare alcuni pianeti per farne altre allora i pianeti che possiamo comprare andiamo a comprarceli si ok arrivo arriviamo compriamo tutto c'è delle altre rotte commerciali così almeno prendiamo anche quella medaglia allora acquista no aspetta un attimo qua hanno un t hanno un t3 oddio è solo rosso ma lo dobbiamo pagare un sacco tipo 5 milioni lo terrò presente niente volevano 10 milioni sicuramente è un'enorme spesa 10 milioni per un t3 di spezia rossa un altro t3 di spezia rossa e vabbè dobbiamo darti 10 milioni e ti diamo 10 milioni ci va di sto giro finiamo in bancarotta in un niente ricordiamoci di non far più rotte commerciali con i t3 ecco un altro t3 e tieniti il denaro il vile denaro mi sa che di sto passo o andiamo a raccogliere qualche o andiamo a vendere di brutto oppure non ce la facciamo mantenere questo ah uno strumento di modellazione prendiamo fiumi carini ma che diamine di strumento di modellazione planetaria è a 40 produce ottimo però è un un posto del manga allora vediamo qua qua c'è uno giallo qua c'è uno che abbiamo già la rotta commerciale qua anche questo invece che cos'è è un rosso è un t0 facciamo una rotta commerciale con il t0 che ci piace diplomazia una rotta commerciale ok vediamo se questo è un t0 dovrebbe esserlo perchè è appena stato acquistato dai tizi ah un t1 vabbè ci sta ancora un t1 eh diplomazia una rotta commerciale con te ok due ne abbiamo coprati perchè il terzo si sono offesi per la nostra offerta scarsa e quindi non l'abbiamo presa quindi soltanto due dovevamo andare ad aggiungerne se non ho fatto male i calcoli uh qua c'è un altro reperto ci sono degli animali qua no delle tribù scusate ma vi rubiamo questo rotolo della saggezza o quello che è libro della scienza e poi tra l'altro uno fa la collezione solo per rivenderla intera che è un po' una fregatura nel senso che fai il mazzo per tenertela tutta e poi dopo la rivendi per niente qua esplorare altri 220 sistemi sono una vita e mezza uno deve giocarci dieci anni spore sì no ok ma questa partita non è anche durata tantissimo sono state forse una trentina di ore di partita che abbiamo fatto alla fine che se ci pensiamo è tipo meno di una partita media The Witcher tanto dovrei iniziare The Witcher 2 che ancora non ho iniziato che ho in mio possesso ma non ho ancora mai iniziato e shame on me ma ci vuole un sacco di tempo ci vuole un sacco di tempo ultimamente sto giocando Tomb Raider 2 che è un po' un mio ricordo di infanzia perché da piccolo non ero mai riuscito ad andare oltre il secondo livello quando era praticamente uscito forse era proprio l'anno che era uscito che avevo giocato e adesso l'ho riavuto su Steam e ci sto giocando e sto cercando di finirlo finalmente a 10 statue rare e anche questo andiamo a mettere nella stiva vediamo abbiamo ancora spazio per un paio di reperti tre reperti vediamo un po' se troviamo questi tre reperti così concludiamo con i tre reperti no non c'è niente qua andiamo a esplorare solo un pianeta in più non c'è niente qua c'è esplorare un pianeta in più un sistema in più in realtà niente andiamo di qua poi il fatto che esploriamo vuol dire che ci saranno poi degli altri sistemi e imperi che verranno qua nelle vicinanze quindi è una trappola dei pirati dove siete? non mi hai neanche troppato dei soldi che pezzenti che pezzenti questo è un sistema bello grande ma che cos'è che ha degli animali tutto spezia gialla ha della spezia viola tutto giallo è un viola sì non è un grande che cos'è poi è anche un po' lontano rosso 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 giallo giallo sistema del kaiser inutile senza anche un senza neanche un un reperto due gialli senza reperto e noi ce ne abbiamo oh non stiamo più trovando reperti da quando ho detto ah me ne mancherebbero soltanto tre non abbiamo più trovato manco uno questo è un giallo rosso 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 peggio ancora di quello primo che aveva più gialli non c'è niente in sta zona niente di niente questo cos'è che era giallo e verde giallo e rosa con due reperti dai uno sarà un fake infatti ok non eravamo all'altezza giusta e ci stavamo prendendo pizza in faccia allora dove è l'altro ok qua non saranno due imboscate dai ah quello di prima quello forse come segnale e infatti cos'è questo tavola della prosperità ma perché lo segna ancora così boh non è che ne ha più di uno boh proviamo a ritornare e forse e forse sì ne ha ancora uno eh sì ancora roba ma che pianeta è questo hai ancora roba no sembra di no questo giro sembra di no no ok ce le ha dati tutti e tre lui in pratica ce ne mancavano tre e ce le ha dati tutti e tre lui quindi adesso possiamo anche tornare su da tarantella dove è il nostro sistema natale ecco qua ok torniamo a tarantella ciao ah il discorso è che se per caso poggiamo giù la spezia rossa se per caso ripassiamo di là ci riempi la stiva con sta spezia rossa il manga oh adesso l'ha addossata tutta la l'ha tutta accumulata la ma che 1 2 3 ma è risposto un po' gli affari non so mai vabbè comunque depositiamo qua questo i grochi si attaccano a nite eh mi spiace nite ma non ho scusato a dirti questo vediamo un po' la nostra collezione qua tanto a venderle non è che ci ricaviamo granché eh quindi ne avevamo presi eh di reperti qua questo tra l'altro è come l'altro sembra eh con lo scanner ci dice cosa abbiamo poggiato per esempio scanner no non dice niente bene allora io credo che per questo episodio possa essere tutto eh ho appena detto che la spezia vabbè ma lì la rivendo loro ciao belli guarda prendetemi della spezia che voi mi avete regalato la vendo che bello soldi gratis allora io vi saluto vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi se per caso l'aveste già fatto e lasciare un commentino qui sotto noi ci vediamo nel prossimo chi è quello che gira boh ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti Grazie per la visione!